Ciao a tutti e ben ritrovati, allora siamo finalmente giunti alla parte in cui iniziamo a smanettare un pochino con il DAX quindi oggi andremo a vedere, partiremo con cose semplici, poi andremo a fare anche cose complicate però è importante capire anche le basi altrimenti rischiate poi che non mi seguite sulla parte tecnica complicata allora oggi andremo a capire che cosa sono le misure implicite, come si fa a fare una somma e come si fa a nascondere i campi al cliente, quindi quando andiamo a creare una pivot vogliamo nascondere determinati campi allora andiamo nel file di esempio che ho preparato, qui ho praticamente costruito una tabellina semplice poi cosa ho fatto? Sono andato sul menu Power Pivot e ho fatto aggiungere il modello dati cliccando qua, se poi andiamo su gestisci, ci troviamo la nostra tabellina se qui in alto a destra andiamo su vista diagramma, vediamo appunto che c'è la nostra tabellina e qua ci sono delle funzioni che adesso andiamo a vedere come si creano allora, dicevamo, possiamo anche lasciare aperto Power Pivot perché non è come Power Query che quando ce l'ho aperto non riesco a lavorare su Excel con Power Pivot aperto io clicco su Excel e continuo tranquillamente a lavorare se faccio dell'implementazione all'interno del mio modello dati quando clicco su Excel si refrescia con le modifiche che ho fatto quindi questa è una cosa molto pratica ed utile a mio avviso allora, come dicevamo nelle prime lezioni noi difficilmente andremo a creare dei campi calcolati quindi difficilmente creeremo colonne qui perché a mio avviso vanno create su Power Query poi vediamo quando saremo nello star schema che abbiamo più tabelle magari ci sarà il bisogno di creare dei campi anche qui però per il momento prendiamo confidenza con le misure che sono la parte più importante da imparare con Power Pivot allora, quindi andremo sempre dal menu Power Pivot, Misure e qui faremo Gestisci Misure, Nuova si crea direttamente comunque andiamo su Gestisci Misure e qui troviamo le tre misure che ho già creato allora, con Nuova ovviamente ne facciamo una nuova adesso io ne apro una, ad esempio faccio questa e faccio Modifica allora, nome tabella, qui inseriamo sempre il nome della tabella dove la misura andrà a comparire quindi quando poi noi faremo la nostra bella Pivot e andremo su Elenco Campi la misura apparirà, ok, nella tabella che abbiamo selezionato in quel punto quindi vedete qui compaiono su Spesa anche perché ovviamente in questo esempio abbiamo solo questa tabellina qua quindi, importante perché se mettete la misura su un'altra tabellina può essere che risponda in modo differente ovviamente queste cose particolari le approfondiremo quando arriviamo allo star schema ad ogni modo, qui appunto mettiamo la tabella di riferimento qui mettiamo come si chiamerà e qui facciamo la somma allora, noi sappiamo che quando utilizziamo una misura ok, quindi facciamo una funzione che determina appunto la misura che poi viene inserita nella parte dei valori ok, sono tutte misure che vengono inserite qua dobbiamo sempre lavorare con un dato aggregato quindi come già vi accennavo se io qui metto Spesa Quantità ok, che questo è il nome della tabella e questo è il nome della misura non funziona devo sempre utilizzare delle funzioni che mi aggreghino il dato in modo da avere un singolo risultato quindi per fare la somma di quantità scrivo sempre Sum ok, poi apro la tonda gli do il nome della tabella facciamo così Sum ok, vedete lui lo propone somma di tutti i numeri di una colonna quindi doppio clic poi mi fa l'elenco dei campi che trova all'interno del mio modello dati qui mi escono tutti i campi anche se ho altre tabelle mi esce di tutto ok, quindi clicco sulla quantità e chiudo la tonda così facendo io appunto ho fatto una somma ovviamente qua c'è la descrizione se vogliamo aggiungere controllo la formula non mi dà nessun errore vediamo se metto la tabella cosa succede io faccio controllo la formula non dà nessun errore ok, questo è corretto perché? perché la misura si trova nella tabella in cui la misura che abbiamo creato l'abbiamo messa nella stessa tabella però a mio avviso non fate questa cosa qua abituatevi sempre a mettere il nome della tabella sempre perché quando andrete a fare formule un po' complesse e comincerete a avere le misure che si trovano su più tabelle avere sempre il riferimento della tabella è un aiuto per voi per capire appunto sempre dove su quale tabella fa riferimento la misura quindi sempre nome, tabella, misura proprio prendetelo come abitudine a fare questa cosa quindi facciamo ok poi cosa ho fatto? ho fatto la stessa cosa sul prezzo e poi ho fatto praticamente il totale della spesa in cui ho fatto somma di quantità per somma di prezzo quindi ho preso le due misure che ho creato qui somma di quantità e somma di prezzo e le ho moltiplicate tra loro così ho la mia spesa totale se non avessi creato queste due misure qua avrei dovuto scrivere sum quantità ok chiudo per sum prezzo ok ovviamente avrei potuto fare anche questo singolo passaggio così facevo una sola misura però tendenzialmente se dopo io mi ritrovo a fare tante formule io ogni volta che devo richiamare l'aggregazione di questa quantità o di quest'altra di prezzo devo sempre star là a scrivere sum sum e quindi le formule diventano abbastanza lunghe e cominciano a diventare complicate da leggere quindi come abitudine imparate da subito anche se fate un singolo calcolo calcolo come questo di spesa di fare sempre le i campi le formule le misure aggregate immediatamente se dovete lavorare con la quantità ok fate subito una misura che fa il sum di quantità la misura che fa il sum di prezzo e così via con le altre se dovete lavorare con le medie con un minimo con un massimo fate sempre possibilmente la misura singola così poi quando andrete a fare formule tante misure e anche lavorare con uno star schema vi diventa molto semplice perché siete già abituati a lavorare in questo modo quindi ecco qua che così noi abbiamo fatto appunto la moltiplicazione di questa cosa qua quindi controllo la formula ovviamente qui gli diamo già la definizione del nostro campo gli metto ad esempio numero intero ok superatore migliare gli do l'ok qua facciamo chiudi e ecco che poi io appunto me le trovo qui ok tirandole giù ovviamente vedete lui fa questo per questo mi fa 20 poi abbiamo questo per questo fa 8 e così via ovviamente qua se noi guardiamo 8.64 non è il totale di spesa perché sarebbe 145 come vediamo qua in fondo perché? perché come dicevamo all'inizio le misure che è creato in DAX le fanno sempre sul contesto della riga a cui sono applicate quindi è come se qui ci fosse la formuletta che avete messo nella misura quindi qui lui farà 12 per 72 ok questa cosa qua la approfondiamo meglio nella prossima lezione come andare a correggere come farla nel modo più corretto anche perché qui vedete in questo caso noi abbiamo pizza e pizza se io a un certo punto decido di mettere la data in alto ok la pizza si aggrega e anche qua mi fa 6 per 32 che mi fa 192 però in realtà la pizza è 4 e qua il prezzo è 12 e poi qua la pizza è 2 e qua il prezzo è 20 che è variato quindi questo dato in realtà è sbagliato succede la stessa cosa anche con le pivot classiche però con il DAX vediamo nella prossima lezione come correggere a questo problema un'altra cosa importante quando noi abbiamo fatto la sum di quantity e la sum di prezzo qua ci restano sempre visibili quantità e prezzo che in realtà poi quando io tiro giù la sum di quantità ad esempio se tiro giù anche questa quantità vedete ottengo lo stesso risultato quindi è un doppione e questa cosa qua potrebbe essere fastidiosa per l'utente perché si trova tante misure e potrebbe chiedersi ma quale devo usare anche perché magari non ha nozioni dello strumento e non sa che deve prendere l'FX che vediamo qua allora è utile in questi casi andare a nascondere la misura allora abbiamo due sistemi allora da qui ok clic destro nascondi strumenti cliente io però mi trovo sempre bene ad utilizzare la vista e diagramma vado qua le seleziono ad esempio tutte e due faccio tasto destro e faccio nascondi a strumenti cliente ok così vedete che diventano in grigetto più chiaro ok quindi sono sparite adesso qui vedete io ho powerpid open aperto e lui seleziona la castella di lavoro per recuperare le modifiche quindi quando io farò clic qua lui le far sparire da qua adesso io clicco vedete e sono sparite così quando l'utente utilizzerà vedete anche se faccio tutti ok mi mostra sempre questo quando l'utente utilizzerà il nostro modello si troverà solo le cose utile che può andare ad utilizzare questo è una regola che non vale solo per le misure ma può valere anche per le dimensioni o magari per le key quando lavoreremo con lo star schema è inutile che mostriamo le chiavi che connettono le varie tabelle di powerpivot nel client quindi è un buon uso andare a ottimizzare nascondendo le cose ovviamente qui mostra nascondi se vogliamo le possiamo vedere nel nostro modello oppure no ovviamente questo tasto funziona solo per la visione di queste misure all'interno del modello dati se ne avete tante da tirare via ovviamente fate così così vedete la situazione è pulita se andiamo sulla vista da dati come vi accennavo inizialmente le nostre misure compaiono qua quando noi lavoriamo col pannellino di powerpivot e facciamo misure qua lui mette tutto quanto qua le mette in ordine più o meno come gli pare ovviamente voi queste misure vedete che qui trovate la formula sono di prezzo due punti uguale quindi se volete scriverle qua perché vi trovate più comune le potete mettere in qualsiasi posizione che volete voi magari misure di sum qui per fare le medie qui per fare la devizzazione standard e così via quindi vi potete dare un ordine anche delle misure invece sul pannellino che c'è qua voi aprite gestisce misure lui ve la mette in ordine o per formula o per misura però questo è l'ordine quindi se ne avete tantissime magari diventa un po' dispersivo sapete che è ordinato per alfabeticamente invece qua invece magari vi fate l'aggregazione ovviamente quando fate la formula qui si fa sempre il nome della funzione quindi sum.prez in questo caso due punti uguale quindi non solo uguale qua quando la creiamo qua dobbiamo mettere anche il due punti e poi qua si mette la misura e poi qui vediamo anche il risultato aggregato della nostra tabella come se noi qui tirassimo via prodotto e data ok ci esce proprio questo numero qua vedete 12, 72 e 8 e 64 che sono appunto questi valori bene allora un'ultima cosa andiamo nella vista diagramma che così è più chiaro praticamente nel menu avanzate troviamo questo tastino qua mostra misure implicite che di default è disattivato cosa succede? praticamente quando noi allora riattiviamo una delle nostre quantità quindi la scopriamo strumenti client ok andiamo qua e ecco qua che è comparsa la quantità riportiamo stato iniziale la nostra bella pivot faccio così che così mi vedete bene praticamente quando io tiro giù la mia misura il mio campo ok quindi non una funzione ma tiro proprio giù un campo della mia tabella che è una quantità e la tiro giù qua ok vedete lui fa somma di quantità poi potrei anche dirgli imposta un po' valore e fammi la media no? ok quindi prima ho fatto la somma e poi l'ho cambiato e ho messo la media poi ipotizziamo non mi serve più lo tolgo ok basta che lo faccio in una sola pivot cosa succede poi nel mio modello dati quando io faccio queste operazioni con le pivot bidimensionali ok che lavorano con il modello dati apparentemente non succede niente però se vado a premere su mostra misure implicite ok vedete mi ha creato queste due misure prima mi ha fatto la somma perché ho tirato giù in automatico mi ha fatto la somma e poi mi ha fatto la media se andiamo sulla vista dati ok anche qua vedete mi ha creato due misure me le ha proprio create e mi ha creato vedete mi ha fatto il sum di spesa quantità e l'average di spesa quantità poi se io vado fuori e mi faccio ad esempio una misura andiamo ad esempio qua andiamo su spesa togliamo questo che utilizza le funzioncine che ho creato io e faccio quantity io scrivo la propria quantità vedete mi compare il mio campo che è definito con il simbolo della tabellina e due e matematica che mi dice che sono due funzioni somma di quantità e media di quantità quindi voi potreste dirmi ma perché mi hai fatto creare la somma di quantità e la somma di prezzo se basta tirare giù un campo e lui me la crea in automatico allora secondo me questa è una cosa che va a sporcare un po' il modello perché dovete comunque per farle comparire dovete ricordarvi di prendere la misura e tirarla giù poi ipotizziamo che non vi serve la somma ma vi serve la media quindi comunque la dovete tirare giù e poi la convertite in media in questo caso però vi ha creato tutte e due le misure e non vi mantiene solo la media allora io queste cose qua secondo me vi sporcano un pochino il modello quindi conviene sempre creare tutte le misure a manina di quello che vi serve e quello che volete far vedere poi nella scelta di campi che compare qua ovviamente qui funziona lo stesso io faccio scusate non questo spesa di quantità per ad esempio prz quindi posso usare un'implicita e anche una funzione che ho creato via una misura che ho creato via e funziona comunque regolarmente però se poi ovviamente qui vi togliete basta fare cance e elimina il modello oppure si va direttamente su diagramma e si toglie questa cosa qua che poi le misure implicite le riconoscete a questo simbolo qua vedete e ve lo dice se ci passate sopra col mouse misura implicita queste qua secondo me è meglio cancellarle tac anche perché le misure implicite adesso non ve l'ho fatto vedere comunque la tirate giù ok poi togliete la misura implicita si è creata ok quindi compare qua adesso noi andiamo a cercarla nel nostro elenco di campi non compare invece la misura che abbiamo creato noi di sum invece compare quindi è buona norma nascondere come vi dicevo i campi che non servono quindi li nascondiamo e poi cercare di non utilizzare misure implicite che possono essere comode ma però secondo me conviene disattivarle e crearle a manina per far comparire le misure implicite appunto dicevo ok menu avanzate misure implicite quindi quando avete finito di lavorare magari date un'occhiata che magari non abbiate e create voi qualcuna in modo accidentale non è che porta via spazio memoria qualcosina si ma niente di che sporca solo un pochino il modello bene con questa lezione è tutto se vi è piaciuta come sempre condividetela nei vostri social così mi aiutate a far crescere il canale iscrivetevi se non siete iscritti e non dimenticatevi di lasciare un bel like vi saluto e alla prossima lezione a presto ciao ciao